Investire sulla zona artigianale di Bellocchi è quanto chiede la CNA di Fano Chi ha scattato una fotografia della zona? Presidente, che cosa è emerso dalla vostra indagine? Allora, guarda, ti dico, noi siamo partiti da questo presupposto Facciamo tante richieste all'amministrazione comunale Abbiamo guardato il lungomare, che forse è il biglietto da visita di una città Abbiamo guardato il centro storico, che è il simbolo della sua vivacità Però la zona artigianale e la zona industriale sono comunque lo specchio del benessere di una città E in questo momento merita attenzione da parte dell'amministrazione comunale Come sempre abbiamo prima fotografato la realtà, evidenziato i problemi, poi magari dato una soluzione La fotografia che è emersa è una fotografia di una zona artigianale comunque molto attiva Perché noi abbiamo adesso in questo momento su due chilometri e mezzo quadrati di area Un'incidenza di 130 imprese, che però rappresentano un numero molto più grande Perché è il numero che rappresenta poi tutti i dipendenti che sono dietro Tutti gli utenti che partecipano, perché è una zona artigianale ma anche una zona commerciale E quindi facendo una stima diciamo così abbastanza, comunque abbastanza precisa Perché è presa da dati comunque oggettivi Noi abbiamo nella zona industriale un passaggio di 12.000 persone al giorno Il che vuol dire che quella zona in questo momento è evidente Ha bisogno di un intervento strutturale La viabilità che era stata pensata nel momento in cui la zona industriale è stata creata Non è più sufficiente In questo momento ci troviamo con un via vai di tir Perché non sono eliminabili giustamente E comunque di auto, dei fruitori e dei dipendenti imponente Quello che chiediamo è di rivedere un pochino tutto quello che è la sistemazione della zona industriale Quindi perché la fotografia che in questo momento è abbastanza cruda Può diventare allarmante perché imprese che devono investire nella zona industriale Gli imprenditori guardano non solo l'ampiezza del capannone Ma guardano anche dove è il capannone Come ci arrivo, come ci arrivano i miei dipendenti, come ci arrivano i miei clienti Che biglietto da visita do della mia azienda In questo momento è abbastanza desolante purtroppo E quindi la fotografia che è emersa è questa La necessità di interventi urgenti sulla zona artigianale e sulla zona industriale Baldarelli, dunque qual è la vostra ricetta? Prima di tutto ci mettiamo a disposizione dell'amministrazione comunale e di tutte le aziende Per costruire un consorzio o una rete di imprese Per lavorare sulla viabilità, per lavorare sulla banda larga Per lavorare soprattutto a fruire i fondi di finanziamenti europei L'altro aspetto bisogna che ci colleghiamo con Pesaro Per attivare l'assetto viario con la canna di Novilare In modo tale che l'area artigianale di Pesaro e di Fano sono collegate E' anche importante la partecipazione ai vari bandi? Certo, importante perché abbiamo delle grandi aziende Un forte polo tecnologico all'interno dell'area artigianale e dell'area produttiva Quindi il loro coinvolgimento sarà importante per partecipare a bandi europei E a far crescere tutto l'indotto produttivo E cerchiamo di costruire un progetto per far crescere il nostro sistema di imprese E le imprese presenti nel territorio Perché di conseguenza con l'area artigianale di Fano Cresce tutta l'economia della città Cresce tutta l'area artigianale di Fano